All right, let's go again, everybody! Allons! Nous allons! Nous allons? Allez-y! Eh, adesso m'è venuta, finalmente. Allez-y, mon ami! Mon ami et mes amis! Eh! Ma quanto ancora deve andare avanti sta storia di Adrien Rabiò con la casacca rossonera? Eh? Ah beh, sia a voi! No, no, lo dico immediatamente, non faccio la mia solita premessa lunga, la mia solita predicozza, che poi tra l'altro il lungo non lo so, perché la gente che me lo dice forse per la prima volta e vede YouTube, perché non avete mai visto video di 8-10 minuti dove fanno una premessa di 7 minuti e 30 secondi e danno la novità in 30 secondi. Quindi, non so come diavolo facciate molti di voi, molte anche di voi, tutti, ma rendo anche, mi sono rotto le pade a conto lavoro, tutti voi e anche le donne, ok? Basta, d'ora in avanti si cambia registro. E ora Adrien Rabiò, ancora, di nuovo, situazione imbarazzante, lo dice Deschamps, è imbarazzante, lo dicono i procuratori chiedendolo qui, là, su e giù, ma è una situazione strana, Adrien Rabiò, Milano, va al Milano, va al Milano, anche oggi, è il Milano, Milano, piano B, piano A, piano B, piano C, Benassersi ha fatto male, allora è ancora più, ancora, ancora, non arriva, non arriva, non arriva, non arriva qui al Milan, non arriva qui al Milan, fidatevi a me, ora parlo abruzzese, voglio, non arriva qui al suo, eh? Non arriva. Benassersi è infortunato, ne avrà per tre mesi, e speriamo che non si vada più con questo 4-2-3-1, perché è una squadra da 4-2-3 con una frecaccia di mezzali, tra Lotto Cic, tra Mus, tra Reinders, tra chi altro, chi è? Ma no, è l'unico. Poi c'è Voss, ci sarebbe sto Zero Oli, va là, tanto ho citato anche lui, però, ora, rabbio, anche oggi, rabbio, contatti in corso, forse si può raggiungere una fumata bianca, ma magari, ma non si sa che non ci arriverà mai, ma la mia domanda è, ma veramente voi pensate che questa società sia così spilorcia e vada di lucro? Vi siete già dimenticati l'anno scorso che vendendo tonale abbiamo fatto 10 acquisti, che poi giusti, sbagliati, tutti giusti, sbagliati, cioè, e poi anche quest'anno sono arrivati tutti i piani B, Nieruver Nukaz, è emerso Royal, per quanto possa non piacere, era il piano A per la fascia destra, è arrivato? Sì, Pavlovic, difesa centrale, era il primo nome, sempre è stato lui il primo nome ed è arrivato, Fofanà, è sempre stato il nome unicum per il centrocampo e poi sono d'accordo doveva venirne uno in più, tipo Coné ci ha provato il Milan, Fofanà è arrivato, Coné purtroppo non ce l'ha fatta, perché? Perché non è riuscito a cedere, perché si aspettava magari qualche cosa in più a cessioni, Ben Asserciao gli elementi principali, ma così non è stato, e invece ce li stiamo tenendo a forza, l'attacco potrei anche dire, beh insomma, Morata, ma Morata è forte, anzi forse anche meglio, proprio esperienza di Zilzee, va bene, 31 anni alla grande, ha già fatto vedere di che pasta è fatto, uno magari, Zilzee, gli altri? Oh, tutti i piani B sono, avete finito a rompere le palle, Anche io non sono d'accordo appieno con la modalità di questa società, ho tanto di noi, tanto cardinale problema, e tanto che questa società, secondo me, furlane moncata, stanno perdendo un po' di credibilità, quanto ne sanno davvero di calcio questi? Me lo domando ogni tanto, pure Ibra sta a fare un sacco di cazzate, Ditemi la vostra nei commenti.